un signore che si chiamava Ray Charles che era innamorato e poi di giovane tu sei malato e gli disse no, è questa malattia con le ditte dottore I don't eat no torture 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 For my sweet chef chiamava I don't eat no torture I don't eat no torture For my sweet chef chiamava I don't eat no torture For my sweet chef chiamava I don't eat no torture I don't eat no torture I don't eat no torture For my sweet chef chiamava I don't eat no torture For my sweet chef chiamava For my sweet chef chiamava For my sweet chef chiamava I don't eat no torture Grazie a tutti 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 Grazie a tutti